Sappiamo bene che Padre Pio ha compiuto moltissimi miracoli e sappiamo anche che noi siamo venuti a conoscenza solo di una minima parte dei miracoli compiuti dal frate con le stigmate. Siamo inoltre a conoscenza che Padre Pio aveva dichiarato che dormiva solo sei o sette ore all'anno lasciando intendere che di notte mentre il suo corpo restava a San Giovanni Rotondo il suo spirito partiva in locazione. Infatti una volta Padre Pio dichiarò quando mi corico per me inizia un'altra giornata. Oggi voglio raccontarvi quella che si ritiene essere la prima guarigione miracolosa compiuta da Padre Pio. Fra Pio ricordo a chi ancora non lo sapesse che prima di diventare prete quando un frate entrava in convento e studiava teologia era chiamato con l'appellativo frate. Torniamo alla nostra storia quindi. Fra Pio si trovava nel convento di Montefusco. Stava ancora svolgendo i suoi studi per diventare prete. Non lontano dal convento c'era un bosco dove c'erano tanti alberi di castagne. Un dì Fra Pio raccolse delle castagne che mise in un sacchetto e che spedì poi a sua zia Davia a Pietralcina. La zia Davia voleva molto bene a Fra Pio che a sua volta gli ne voleva tanto anche anche lui. Quindi la zia di Fra Pio mangiò le castagne e poi siccome quello era un dolce regalo che le era stato fatto da sua nipote a cui voleva tanto bene decise di conservare il sacchetto come ricordo. Passò del tempo ed una sera la zia Davia doveva recuperare una cosa in un cassetto. si fece luce tramite una lampada d'olio. In quello stesso sacchetto, in quello stesso cassetto scusate, il marito custodiva della polvere da sparo che a causa della lampada prese sfortunatamente fuoco. La fiammata investì la signora in piena faccia. Improvviso si levò l'urlo di dolore della zia di Fra Pio che distinto prese il sacchetto delle castagne che aveva conservato, quindi quello che lei aveva regalato Fra Pio, e se lo portò sul viso per cercare di lenire le bruciature. Il dolore scomparve immediatamente e sul volto della signora non restò alcuna ostione, nessun segno. Era come se non fosse accaduto nulla. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.